I carabinieri della stazione di Ogliastro Cilento, agli ordini del capitano Francesco Manna, dopo un'attenta e prolungata attività di indagine, hanno sorpreso un 24enne e un 23enne del posto intenti a coltivare 24 piante di cannaba indica, trapiantate, invaso e occultate in un terreno incolto. I militari hanno eseguito le perquisizioni domiciliari, rinvenendo ulteriori 20 grammi di marijuana e materiale atto alla coltivazione. La sua stanza è stata sottoposta a sequestro. I giovani sono stati accompagnati presso il carcere di Vallo della Lugania a disposizione di quella autorità giudiziaria.